Vedete la pattuglia arrivare da sinistra e vedete quanto sono vicini gli aerei l'uno dall'altro. Mantenere in questa posizione questi ultraleggeri che pesano solo 450 kg non è facile. Richiede un'abilità molto accurata raggiunta con un costante. Gli stava facendo i grattini alla coda. 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 Grazie a tutti. Ed ecco uno specchio, ovvero un aeroplano vola a diritto e l'altro vola sopra, esattamente rovesciato. Signore e signori, captainza, il Mirror Flight. Grazie. 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 Adesso sono passati con una macchina, sono tutta l'acqua negrizzata. Guardate che formazione ragazzi! Guardate che formazione ragazzi! Guarda che formazione! Guarda! Palloni! Appena torniamo a loro, non abbiamo fatto a dire nessuno adesso! No! Grazie! 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 Bellissima apertura sulla sinistra in salita con questa sfogata. Comunicazione di servizio, il signor Isidoro Greco, ho pregato di venire qui alla postazione dell'Aeronautica Militare di fianco al C-27 J Nero, il grosso aeroplano che c'è in mezzo al C-Rain e il video lo attendo. Grazie! 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 Ed ecco il primo passaggio con il piccoloore davanti al pubblico. Il passaggio prima dei saluti con l'apertura dei principi. Grazie! Grazie! Motore su di giri, mentre dietro di loro al precollo con l'extra 300 tonità e il piano del suono. Ultimo a 8G per qualche istante per prendere quota e poi rientrare sul palcoscenico mentre i due circe sfidano verso il parcheggio. La sua manovra con un'altra discesa a 45 gradi e come vedete tutte le manovre si contribuono perfettamente davanti ai vostri occhi. Anche questo serve per strappare ai giudici o qualche punto in più. Un applauso! Un applauso! Giu il cappello, giù il cappello signori! Giu il cappello, giù il cappello signori! Giu il cappello, giù il cappello, giù il cappello, giù il cappello. Lassate la pista! e questa è la scampanata perfetta, è una riscisa in medio positiva in questo caso due gigi e mezzo per portare con l'aeroplano verso l'avest passaggio a cortello con i pugni applausi per i pugni perché così indietro l'abitacolo c'è tutto il motore davanti per quello c'è l'abitacolo così indietro è la cosa più pesante il motore tra un anno fa il peso è fatto bene quindi c'è la metà peso è la metà peso è la metà peso è la metà peso è la metà peso Sono verso l'alto, pronti ad invertire però la direzione del loro volo e prepararsi per un'altra spettacolare apertura. Ma non finisce qui perché dal basso arriva il solista pronto ad inserirsi nella separazione delle tue sezioni. Signore e signori questa è l'apertura dell'Arizona. E questo è l'abbraccio che i prezzi e i regolari vogliono dedicare a tutti i miei presenti qui a G. Tramandatevi pilota in pilota e di caratteristiche del nostro tenivolo, signore e signori, questo è lo spettacolare volo Corne. E dopo un volo offrone del nostro somministale, guarda quanto a pezzo spinge qua. Per terminare con la potenza di poter rottare lo spettacolare, lo precicolo che ha fatto. Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.